Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori in questo video. Purtroppo a narrare un triste incidente con un drammatico epilogo, un incidente avvenuto a Bronte, in provincia di Catania, andiamo a ricostruire l'accaduto. Apprendiamo che due ragazzi a bordo di una Opel si sono schiantati dapprima contro una mucca e successivamente sono finiti contro un carroattrezzi per i due ragazzi, una giovane coppia di 20 anni, non c'è stato nulla da fare, i due ragazzi sono morti sul colpo e non è servito a nulla l'arrivo tempestivo dell'ambulanza. Purtroppo i due ragazzi hanno perso la vita.